ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video di Brawlalla io prendo petra che ho imparato a usarla decentemente in alto a destra vedete che abbiamo 4890 ori a 5200 possiamo comprare un personaggio nuovo se facciamo 25 ko prendiamo ne abbiamo fatti 7 prendiamo 250 monete con 8 ko di lancia o catars facciamo 250 monete col martello o la la spia è sempre la lancia 250 monete quindi vediamo come andrà bene io prendo petra ok siamo pronti allora in attesa qui è in attesa ovviamente a buttare giù il mio papà ma dai cosa mi butti giù o contro maco e cross non abbiamo mai visto cross non l'abbiamo mai visto non l'abbiamo mai visto la nave dei pirati di rubber di one piece papà te lo sai neanche se loro sanno di one piece guarda papà no dai ti sei già fatto a mattare non mi hai dato un'arma per favore basta non colpire me basta ho fatto partire via Marco oh che bomba gli ho tirato hai visto dove l'ho andate Ale l'hai eliminata è la mia arma pochissima no colpire me scusa dai come ti ho colpito te no non c'ho più l'arma eh vabbè allora devo correre pugni ho preso i pugni no devi venire a correre oh no no scusa ma che mali mi hai fatto si è colpito hai visto hai eliminato il suo compagno per sbaglio deveильvio da solo sei morto ho buttato il mondo mutati non vi guardo No, che bomba mi ha tirato! Ma sei morto del tutto, Ale! No! Uh, è andato fuori! Uh, per poco. Non è andato a ritrovarsi la saliva! Non è andato a ritrovarsi la saliva! Ma dai! Uh, mi hanno buttato via l'arma, no? Bene, si è colpito. Pugni per loro! La lancia è la mia preferita! Lo sai, papà? Mi ha tirato una bomba! Nooooo! Ammazzati! Eh, dai! Vediamo se abbiamo vinto qualcosa, no? Sei passato di livello, Ale! Hai sbloccato una nuova stanza! Che cosa sarà? VELOCITÀ! Io riprendo sempre Petra! Io mi prendo sempre il mio... Tuo chi? Questo! Qui in Nail? Sì! Ma... Ho preso... Della velocità, è vero? Oh, dobbiamo vincere! Eh, infatti! Fate il tifo per noi, amici! Ve lo chiediamo sempre! Eh, infatti... Magari se... Può anche uccidere il mio papà! No! Eh! Ma cosa devi uccidere me? Cosa ti ho fatto? Vai, ridi anche! Io vado qua! Ma è il schermo a vetro! Del ghiaccio! Ma che vetro! Ma è vetro! Tieni una bella bomba! Ecco! Non mi hai neanche un po' capito! Ma dai! Oh! Contro Wu-Shang e Queen Nail! Wu-Shang! Io odio Wu-Shang! Perché? Che cosa fa? Perché per me è un dio! Ma è un dio! Per me è troppo forte! Per me è invincibile! Una bella arma qui di... Ma si colpiscono fra di loro! AIA! Ma che cavolo! Ma ti ha tirato una bella bomba, eh, quello! Si è fatto con il giocino! Ecco per quello che io... Nooo! Mi ha buttato proprio fuori! Nooo! Ho finito i salti! Ma io non so come mi ha fatto! Le ho tirato una bella bomba! E vai! Occhio! 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 Grande! Ale l'hai buttato fuori! Ah! Mi prende a pugni quello! Eh, va bene! No, non morire, Ale! Ho bisogno del tuo aiuto! No, mi hanno distrutto l'arma! Ho i pugni adesso io! Che arma hai tu? No! Eh, va bene! Mi ha tirato il mega pugno! Ho l'ultima vita! Dai! Io qua sono contro il Dio! Ma... L'abbiamo buttato fuori o no? Non ancora! Sì, io sono contro il Dio! Io sono contro il Dio che... Oh, Dio... Oh, l'ho eliminato! Qua c'è il Dio che... colpire no 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 morto ma c'è il dio che io lo odio eliminato anche ale verso ancora ora c'è l'ultimo io gli metto un emoji gli metto il mio tavolo arrabbiato aspetta ma sono loro che ci hanno fatto il ripo sono loro che ci hanno fatto il ripo ale no noi ci hanno mandato veramente a riposare io sempre petra eh ma il mio è il prossimo livello sblocca una roba che c'è un'altra stance che dà più forza nella altezza in alto in angolo alla sinistra c'è uno scudo e tutta nell'altra parte c'è una spada io prendo petra amici ultima partita la terza e ultima per oggi giusto siamo pronti classica schermata di attesa intanto vediamo un po di robe io tiro una palla a mio figlio una bella lancia tutta per il mio papà tutta per il mio maglia tutta per il mio papà perché del studio il un bel pugno vieni qua, vieni qua, sei finito sotto, armi, armi, no, Isaia e Petra, io ora vado con ok, sono armi anch'io, cavolo, io non lo so, io non sono salito in alto, io riesco a salire in alto, uh, andiamo, aia, no, 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 Ale, dai, no, colpire me, scusa, ecco, mi ho eliminato, ero diventata, ero diventata rossa la mia vita, aah, aah, io, non mi ho aperto, perché mi ho intentato via dalla rinna, pugni per tutti, pugni e lanciate per tutti, pugni e lanciate per tutti, pugni e lanciate per tutti, aio, pugni e lanciate, no, 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 ma non ho rotto l'arma, pugni e lanciate per tutti, aio, dai che l'ho buttato sotto, si eliminato, dai che l'ho buttato giù, rimane l'ultima vita, aia, me l'hai distrutto l'arma, ma quello ha fatto un volo, se riusciamo a eliminare Isaia, ha l'ultima vita, eh, no, come ha fatto, mi ha fatto rimbalzare sul terreno con una mega bomba, no, 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 l'ultima vita anch'io, dai che lo elimino, abbiamo tutti l'ultima, sì, sia noi che loro, no, scusa, uh, mi sono fermato il tempo, dai, Ale eliminalo, buttata fuori quella, gli rimane solo lui, TAM, doppio colpo, Ale, che l'ho buttato, poi tu l'hai capito, hai visto, hai visto che roba, grandissimi, ce l'abbiamo fatta, vincendo almeno una, aspettate, no, vorrei scrivergli qualcosa, dai, 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 allora io gli metto il rip, glielo mettiamo, rip, aspetta, io ne metto anche un altro, anche un altro? Quale gli metti? Il Minotauro era avviata, un altro lì, dai, basta, vediamo, dai, vediamo che premi ci siamo presi, uh, ah, vedi, K.O. con la lancia, ok, bene, siamo passati anche di livello, 5200, guarda cosa abbiamo preso, la skin dei guanti, ok, ce la prendiamo, abbiamo 5200, 5200 amici, 5200, ci compriamo un personaggio, andiamocela a comprare, papà, allora, scegliamo bene, andiamo, credo, qui, no, non credo, sa, ma è questa, no, allora, dov'è che si compra, no, Ale, credo, qua, store, vediamo, no, mi sembrava fosse un Meet the Legends, eccolo qua, sì, dai, voglio il mio, voglio il mio, ad Ale piace tanto Maggior, però aspetta, quello, il mio, quello che usavo continuamente, oh, qui, dai, lo si, ti piace, guarda, questa, ma che, attori, non la vedo, questa, no, questa, no, non la vedo, Ale, eccola qua, no, ma la vedete voi amici, dov'è Queen I, non è quello, no, ok, tutte, cavoli, ma dai, sono in ordine alfabetico, eccola qua, scegli bene, Ale, chi vuoi, Queen I possiamo ancora usarla questi giorni, Maggior, no, sei il tuo preferito, Maggior, cosa dite ragazzi, prendiamo Maggior, sì, cosa ci consigliate, Maggior, vabbè, noi proviamo a prenderlo, a 5.400, no, non possiamo, ci mancano ancora 200 monete, eh, vabbè, allora niente, vediamo, 2.300 questa, solo, ah, quindi costano in maniera diversa anche, Ale, papà, guarda, Queen I costa, no, papà, vai in quello, 2.300, questo è il corvo, cos'è, Mooney, ma è quello nuovo, costerà tantissimo, infatti, 7.200, vediamo Petra, che a me piace molto, ma scusami, ma se, allora, non sono in ordine alfabetico, Petra, ecco qui, quanto costa, 5.400, vale, Ale, vuoi che aspettiamo 200 monete per prendere Maggior? Sì, sì, o vuoi subito Queen Knight? Maggior, ok, allora, amici, aspetta, Queen Knight, guarda là, ho le skin, eh, sono belle, ma le skin però si comprano, non si possono prendere con le monete del gioco, e quindi, allora, amici, Aspidale, ha deciso di aspettare per Maggior, e quindi aspettiamo quando avremo altre 200 monete, e quindi, per stasera, vi salutiamo, ciao ciao!